Buongiorno amici di Gira Voda e Furia, benvenuti a questa seconda puntata sui palazzi di Messina. Ci troviamo davanti Palazzo Piacentini, opera dell'architetto Marcello Piacentini. Fu realizzata nel 1927 sulla zona del vecchio Grande Ospedale. Si compone di tre edifici collegate da gallerie. Il prospetto, sopraelevato da grandi scale, è caratterizzato da grosse e scanalate mezze colonne doriche che inquadrono i muri, dove si aprono finestroni rettangolari e soreggono una trabbeazione. Le finestre sono sommontate da rosoni e medaglioni a basso rilievo. Sul grandioso attico troneggia infine la grande quadriga, condotta dalla dea Minerva, realizzata da Ercole Drei in lega di bronzo e alluminio. Ci troviamo davanti Palazzo dell'Università, distrutto e raso al suolo dal sisma del 1908. Fu ricostruito nel 1920 e occupa una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Il complesso edilizio universitario è stato progettato dall'architetto Giuseppe Botto. Dopo l'ultima guerra, in relazione al piano di espansione degli Atenei, l'amministrazione universitaria dispose la sopraelevazione di alcuni padiglioni e la costruzione, su progetto dell'ingegner prof. Francesco Basile, da un moderno edificio con fronte su Via dei Verdi. I prospetti delle tre palazzine che danno su piazza Salvatore Pugliatti rivelano caratteri neoclassici con decorazioni floreali. Siamo di fronte al Palazzo della Camera di Commercio, costruito dopo il terremoto del 1908, sul progetto dell'architetto messinese Camillo Puglisi Allegra. Questo palazzo si articola su tre piani di impianto classicheggiante, con un gioco di corpi avanzati sulla facciata ritmata da paraste che si elevano su un altro basamento bugnato, a sorreggere una modulata trabeazione. Il terzo piano, realizzato al di sopra di essa, ha alterato l'impianto che, nonostante il verticalismo dei finestroni, era marcatamente orizzontale. Ci troviamo davanti al Palazzo della Cultura, inaugurato nel giugno 2009, in Viale Boccetta. Ospita, tra l'altro, la Galleria di Arte Contemporanea, inaugurata la sera del 25 febbraio 2012, in occasione della Notte della Cultura, edizione 2012. All'interno vi è un ampio auditorium, in cui spesso si esibiscono tra i migliori interpreti di musica classica. Ci troviamo di fronte la stazione di Messina Centrale, costruita nel 1939 dall'architetto Angelo Mazzoni, dopo che per ordine di Benito Mussolini fu demolita la precedente stazione. Fu inaugurata il 28 ottobre 1939, in stile razionalista, costruita utilizzando il travertino, la pietra lavica, la pietra di Siracusa e la pietra rossa di Taormina. Le stazioni sono divise in due corpi, la stazione marittima e quella centrale. La centrale ha un grande loggiato che immette in una hall, ha un grande sottopassaggio che porta i binari. Dopo la stazione centrale si trovano gli uffici delle ferrovie dello Stato. Dopo gli uffici si trova la grande stazione marittima. Questa ha una forma ad arco. Al piano terra si trovano il bar, la biglietteria e la tabaccheria e, da scale mobili e scale moratura, si può salire sul salone panoramico sul porto. E sulla parete opposta si trova un grande mosaico opera di Michele Caschella. Dal salone si aprono i varchi pedonali per le cinque invasature. Da alcune rampe si può salire sopra la nave con le automobili. Un'altra struttura caratterizzante è la torre dell'acqua con la scala aelica intorno alla struttura. La stazione ha anche il compito di interscambio con il tram di Messina, autobus e stazione Pullman fra la Sicilia e il continente. Ci troviamo davanti Palazzo Cerudi Bisanza, nella via Lepanto. All'incrocio della via Cesare Battisti è riconoscibile dall'inconfondibile Stella di Davide, inserita nelle inferiate dei balconi. Ci troviamo di fronte Palazzo Tremi o Palazzo del Gallo, all'angolo con le vie Centonze e Saffi, realizzato da Gino Coppedè nel 1913. Ci troviamo davanti al Palazzo Arcivescovile, che fu più volte distrutto e ricostruito, l'ultima volta nel 1924. Ci troviamo davanti al Palazzo della Cassa di Risparmio, opera dell'architetto siciliano Cesare Bazzani nel 1926, tra via Garibaldi e piazza Fulci. Cari amici di Gira, Voda e Furia, questa seconda ed ultima puntata dei Palazzi di Messina termina qui. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima.